Cliomacupa ha annunciato che si sottoporrà a un intervento di blefaroplastica, ovvero a un'operazione di chirurgia estetica volta a rimuovere la pelle in eccesso a livello delle palpe. Cliomacupa ha annunciato che si sottoporrà a un intervento di blefaroplastica, ovvero a un'operazione di chirurgia estetica volta a rimuovere la pelle in eccesso a livello delle palpe. La nota truccatrice lo ha fatto durante uno dei suoi video tutorial, mentre mostrava ai suoi follower le ultime novità infatto in make-up provandole davanti all'obiettivo dello smartphone. Ho preso un appuntamento. È stata una scelta un po' ventata, dico la verità ha esordito l'influencer e imprenditrice che su Instagram conta oltre 3,5. È stata una scelta un po' ventata, dico la verità ha esordito l'influencer e imprenditrice che su Instagram conta oltre 3,5. Se fossero stati tutti e due nello stesso modo magari sarei rimasta meno infastidita da questa cosa. La rassicurazione è che il suo aspetto non cambierà in modo drastico. C'è una mia amica che l'ha fatta e dopo aver visto il prima e dopo, il cambiamento non è radicale, non è che cambierò. La rassicurazione è che il suo aspetto non cambierà in modo drastico. C'è una mia amica che l'ha fatta e dopo aver visto il prima e dopo. Il cambiamento non è radicale, non è che cambierò. La rassicurazione è che il suo aspetto non cambierà in modo drastico. C'è una mia amica che l'ha fatta e dopo aver visto il clio si era informata anche per un tipo di blefaro laser, ma alla fine ha optato per l'intervento definitivo così da evitare di doverlo ripetere. L'appuntamento è per il 12 di aprile, in teoria già nel giro di 10 giorni dovrei essere già presentabile, non posso prendere ovviamente il sole, devo stare molto attenta perché l'appuntamento è per il 12 di aprile, in teoria già nel giro di 10 giorni dovrei essere già presentabile, non posso prendere ovviamente il sole, devo stare molto attenta perché l'appuntamento è per il 12 di aprile, in teoria già nel giro di 10 giorni dovrei essere già rappresentabile, per quello che può valere, Clio io penso tu sia bellissima, ha aggiunto qualcun altro. Per quello che può valere, Clio, ma non è mancato chi le ha mostrato il suo sostegno, se ti crea disagio o malessere fai benissimo a ricorrere alla chirurgia. Un post condiviso da Clio Chiocciola Clio Mekup sottolineatura.